Questa è la Valdichiana, qua sono nato io, i babbo e la carne più buona d'Italia. La chianina è un bovino grosso, antico. Bisogna saperla allevare. E cucinare. Eh, se vuoi il massimo potete andare a cercare. Il meglio oggi è da McDonald's. Nuovo Gran Chianina, con carne 100% chianina. Con una bibita scelta a soli 6,90€ o nel tuo menù preferito. A presto.